Sempre lo stand di Marco Gramaglia, ti prego illuminami perché sono molto curiosa, che sarebbe? Questa è una cosa un po' particolare, il nome volgare italiano è tuberina o carciofo di terra, produce dei piccoli tuberi che sanno di carciofo. La particolarità è che quando si estrae questo tubero bisogna utilizzarlo a breve termine, non ha una lunga durata, a differenza di altri tuberi, di altre piante che producono tuberi che non sono suoi parenti ovviamente, tipo il topinambur, che è più conosciuto, anche se io ho alcune varietà un po' particolari di topinambur, a tubero rosso, oppure anche a tubero un pochettino più liscio del classico topinambur, che è la varietà vecchio piemonte utilizzata qui, nella varietà piemontese. Grazie, ho imparato una cosa nuova.